La questione sui punti di nascita torna un'altra volta sul tavolo, al momento come vede la situazione? Torna sui tavoli del Ministero della Sanità e della Regione in qualche misura, perché un decreto del Ministro della Salute, la Lorenzin, ha consentito un riesame, per così dire, delle situazioni che prevedevano la chiusura di punti di nascita al di sotto dei 500 parti all'anno. Ora, questa è una verifica che verrà fatta caso per caso a livello nazionale e poi regionale, sulla base di dati oggettivi. Se l'esito di questa verifica ovviamente modificherà le decisioni regionali, ovviamente l'ASL è tenuta a riprendere e riaprire il punto nascita che è stato chiuso. Se questo avviene, perché ripetiamo, l'ASL in questo caso attua una disposizione regionale che alla base aveva un accordo Stato-Regioni dell'anno 2010. Ecco, intanto hanno predisposto un altro sit-in di protesta per manifestare appunto contro queste paventate chiusure future. Il suo pensiero personale qual è da manager dell'ASL di Teramo? Allora, oggi tutti quanti stiamo guardando, tutti i direttori generi d'Italia, all'impatto della nuova normativa europea sui turni di lavoro. Allora, se dovessimo rispettare questa normativa europea che dice che i medici e gli infermieri non possono lavorare più di un totto ore, non possono fare turni di repribilità maggiore di un totto ore e che ci devono stare dei periodi di riposo, ebbene, se questa normativa deve essere approvata e quindi approvata, applicata, l'ASL di Teramo, come tutte le altre ASL di Abruzzo, non hanno le condizioni per lasciare aperti molte unità operative che oggi lavorano H24. Perché se si deve rispettare la legge, e noi crediamo che il datore di lavoro sia tenuto a rispettarla, una serie di questi H24 dovranno essere ridotti. Al momento questa è la preoccupazione maggiore, cioè quella di riuscire a garantire le aperture H24 non avendo medici e infermieri e non potendo, in questo caso, rispettare la legge. Questo è il vero argomento di questa settimana.